Le sette lettere di Giovanni Paolo II che menzionano Meggiugorie. Queste lettere sono state inviate a Marek e a Sofia Svarnicic, i suoi amici di Cracovia. Queste lettere sono state pubblicate da questi amici nell'ottobre 2005, alcune sono state scritte a macchina e altre a mano, ma tutte sono filmate da Giovanni Paolo II. Prima lettera, caro signore, e che tutto vada bene nel viaggio Meggiugorie-Roma, con la mia cordiale benedizione. Giovanni Paolo II, mattigano 30 marzo 991. Seconda lettera, caro signore Marek, e ora torniamo ogni giorno a Meggiugorie con la preghiera. Giovanni Paolo II, vaticano 28 maggio 1992. Vediamo per ora solo le sintesi di questa lettera. Terza lettera, manoscritto, biglietto di Natale. Signora Sofia, la ringrazio per tutto quello che riguarda Meggiugorie. Anche io ci vado in peregrinaggio ogni giorno con la preghiera. Mi unisco spiritualmente a tutti coloro che pregano lì o che da lì sentono un invito a pregare. Oggi capiamo meglio questo invito. Mi rallegro per il fatto che nella nostra epoca non mancano uomini di preghiera e apostoli. Giovanni Paolo II, 8 dicembre 1992. Quarta lettera. So che la signora Sofia si volge verso Meggiugorie e di recente anche verso Osdra Brahma, per spiegare tutto il suo passato. Anch'io sono andato a Osdra Brahma. Vi ho anche citato Michievesic. Non sono andato a Meggiugorie, ma anch'io guardo in quella direzione. Voglio condividere questo con sua moglie. Guardo in quella direzione e mi sembra che non sia possibile capire gli avvenimenti terribili che hanno luogo oggi nei Balcani senza Meggiugorie. Giovanni Paolo II, 6 dicembre 1993. Quinta lettera. Caro signore e cara signora, mi ringrazio molto per le vostre due lettere. Sofia mi ha scritto a proposito dei Balcani. Ora probabilmente si capisce meglio Meggiugorie. Si capisce tanto più questa specie di insistenza della Madre di Dio, in quanto abbiamo davanti agli occhi grande minacce. Allo stesso tempo, la risposta mediante la preghiera, e questa da parte di persone di tutto il mondo, ci riempie della speranza che il bene vincerà anche raggiù. La pace è possibile. Questo è lo spirito che animava la ventitresima giornata di preghiera preparata da una sessione speciale in Vaticano, a cui ha assistito anche Mazowiecki. Forse è anche grazie a questo che l'Europa ritorna ad essa. Anche in Polonia le persone si risvegliano. Da quanto mi scrivete, forse sarà più facile per loro essere in sintonia con il Papa, che non ha predicato la vittoria della democrazia, ma ha ricordato il decalogo. Con benedizioni, Giovanni Paolo II, Vaticano, 25 febbraio 1994. Sesta lettera. Caro signore e cara signora, la seconda parte della lettera forniva informazioni molto preziose riguardo al prelingaggio della signora Sofia Meggiugoria il 15 agosto. Sono le impressioni di un testimone, di una testimone di prima mano e dunque sono affidabili sotto tutti gli aspetti che Dio vi benedica. È impossibile leggere queste righe senza sentire una compassione molto profonda per tutti quei piccoli orfani e tutti gli abitanti di quel paese. Non è sorprendente che in quella parte del mondo le persone ripongono tutta la loro fiducia in Dio, non ricevono alcun sostegno da parte della loro comunità vicina. Affido a Dio la signora Sofia e signora Marek e tutta la loro famiglia. Vi auguro di restare in buona salute e con la benedizione del mio cuore. Giovanni Paolo II, Castel Gandolfo, 3 settembre 1994. Settima lettera. Città del Vaticano, 26 febbraio 1997. Caro signore e cara signora, vi ringrazio molto signor Marek e sua moglie per le vostre lettere e per i 10 libretti della versione polacca della Via Crucis. Se Dio lo permette, la benedizione dell'edificio sarà parte del programma della mia visita a Cracovia. Ci avviciniamo alla data a grandi passi. È una buona cosa che i miei cittadini preghino per questo avvenimento nonché il mio viaggio a Sarajevo che in un certo qual modo riguarda le preghiere della signora Sofia per Meggiugorie. Saluto la signora Sofia con tutto il cuore come pure il signor Marek e i figli, senza dimenticare il piccolo Paul. Siate benedetti Giovanni Paolo II. Ottava lettera, città del Vaticano, 15 aprile 1986. Cara signora Sofia e caro signor Marek, grazie perché condividete con me le vostre osservazioni sul piccolo libro tradotto dalla signora Sofia, di cui ho ricevuto una copia. Vi ringrazio cordialmente per esso e la ringrazio anche signor Marek per il suo post scriptum. È confortante venire a sapere la reazione del popolo di Dio nonché le conseguenze di ciò che è più essenziale in tutto questo avvenimento che stimano lo zero, la riconciliazione dei cuori, l'adorazione del Padre Misericordioso e l'apertura dei cuori alla Divina Misericordia. Il buon pastore risolto, alleluia, con tutta la mia benedizione, Giovanni Paolo II, Pasqua 1986. Il piccolo libro che qui è insieme al Papa era la prima opera pubblicata in Polonia su Međugorje e quindi erano le sue impressioni. Questo è tutto, fine.